Allora, benvenuti cari fans, grazie per averci aiutato a raggiungere la quota di 300 iscritti. Per ringraziare tutti voi, il mitico Michele Duraccio ci farà l'imitazione del mitico Gollum. Vai Michele, inizia! Ok, grazie di tutto Michele, grazie di tutto, sei stato magnifico, una doppia imitazione, Gollum e Smigol, che ricordiamo che, diciamo, è la parte buona di Gollum. Grazie di tutto Michele, saluto i tuoi fans, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye ragazzi, grazie di tutto.